Andiamo adesso negli Stati Uniti perché questa sera la Camera dei Rappresentanti ha varato la riforma delle tasse che ora passa alla firma del Presidente. Trump è intervenuto poco fa e allora ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Giovanna Bottari. La più grande riforma fiscale degli ultimi 30 anni, una manovra da 1500 miliardi di dollari, è stata appena approvata anche dalla Camera dei Rappresentanti e dalla sua maggioranza repubblicana. Ora manca solo la firma del Presidente Trump per farla diventare legge. È stata una riforma combattuta, una riforma che taglia le tasse alle imprese ma anche alla classe media. Il Presidente Trump l'ha definita in un breve incontro alla Casa Bianca il suo personale regalo agli americani per Natale. Ma il Presidente ha parlato anche del voto di domani all'ONU su Gerusalemme dicendo che molti paesi ricevono i finanziamenti americani e che lui guarderà attentamente come voteranno quei paesi domani. Per il momento è tutto, linea allo studio.